Bene, allora direi di partire, buongiorno a tutti, io sono Cecilia Biondi, caporedattrice delle riviste di Editrice Temi e ho un graditissimo compito di dare il benvenuto a tutti voi che siete con noi per la quindicesima edizione di questa giornata, questo convegno, la cosa ci dà un'enorme soddisfazione, siamo veramente contenti di poterla condividere con voi e soprattutto con i nostri partner che sono la ricchezza e il valore di questo evento e ci aiutano davvero a produrre formazione, avanzamento culturale anche a tutti voi che poi nel quotidiano dovete applicare queste cose. La mia è un'introduzione formale, velocissima, vi ricordo che il pranzo sarà a luna, termine mattinata, al piano di sopra nel Salone d'Onore dove potete anche incontrare i nostri partner e scambiarvi le informazioni di approfondimento. Dopo il pranzo alle 14.30 il professor Raffaele che è qui di fianco a me avrà una sessione di formazione per la quale però vi chiederemo di iscrivervi al banco reception, due comunicazioni formali nel senso che l'attestato di partecipazione è disponibile sempre chiedendo al banco reception e nella vostra cartellina dovreste trovare un questionario di gradimento che vi chiederemo di restituire compilato. Ai ringraziamenti va assolutamente aggiunto quello ai nostri chairmans che ci consentono di lineare anno dopo anno un percorso di innovazione, di formazione, il professor Carlo Raffaele, Stefano Novaresi qui con noi, Emanuele Porazzi che non ho ancora visto ma spero che arrivi anche perché la sua è la seconda sessione della giornata. Detto tutto questo di nuovo un grazie a tutti, buon lavoro e passo la parola al professor Raffaele. Grazie, grazie Cecilia dell'introduzione. Buongiorno a tutte e a tutti. Non è la prima volta che ci ritroviamo qua, sono 15 anni di evento e quindi ragionando su questo numero insomma che comincia a essere un piccolo anniversario mi sono chiesto ma cos'è cambiato in 15 anni? Allora è chiaro che 15 anni fa di certi temi di tecnologia così spinta nell'ambito sanitario non se ne parlava. Certi aspetti legati all'automazione erano ancora ben lontani da essere pensati come utilizzabili nell'ambito della sanità. Oggi invece nella quindicesima ma anche nella quattordicesima eccetera eccetera avete visto e vedrete degli esempi di automazione, di digitalizzazione, di tecnologie in generale che sono un'evoluzione importante e quindi da questo punto di vista possiamo dire vuol dire che qualcosa è cambiato veramente. Bisogna capire se è cambiato perché il mondo esterno quindi i produttori stanno spingendo, stanno realizzando oppure perché sta cambiando anche il mondo interno quindi se poi la sanità effettivamente recepisce queste innovazioni. Alcune volte sì, infatti alcuni casi lo vedremo, in molti altri casi ancora no. Quindi è un percorso ancora molto molto lungo credo. Questi eventi però credo che aiutino la diffusione, aiutino a far capire l'utilizzo, l'applicabilità e quindi a far scattare anche degli elementi di idee e di applicabilità che magari nel proprio ufficio, nella propria realtà non vengono fuori. Questo tipo però di elementi, di sviluppi ha bisogno anche di una serie di componenti perché è vero che poi gli utilizzatori principali delle tecnologie che oggi vedremo sono i farmacisti in primis, sono i provveditori, sono tutti coloro che in qualche modo si occupano di logistica all'interno dell'ospedale. Però queste figure che, ripeto oggi, stanno conoscendo sempre di più quelle che sono le tecnologie e come l'utilizzo e la loro competenza aiuta, attenzione, aiuta a inserirle meglio, a sfruttarne le potenzialità. Non dimentichiamo che appunto queste competenze interne non sono solo le competenze che devono utilizzare un macchinario, arriva un robot e lo devo usare. Queste competenze aiutano a inserirle meglio e ad applicarle. mi viene la battuta dottoressa Gasco che sei in piedi, lei è un esempio, l'avevi presentato l'anno scorso, lei è un esempio di come le farmaciste fanno da boost per l'introduzione della tecnologia. Detto ciò, i farmacisti e i provveditori non bastano come competenze, servono gli ingegneri, gioco in casa perché ovviamente spingo il marchio, però servono gli ingegneri di vario tipo, quindi informatici, biomedici, gestionali, io e Porazzi arriviamo da quell'area, però senza di loro è un po' difficile. Ultimo tema, questo tipo di eventi aiuta a fare cultura, a fare diffusione, non è una volta all'anno che si fa cultura, quindi sia come università che come società di formazione e in questo caso mi riferisco a temi editrice, a impresa sanità, stiamo cercando di fare un po' questo tipo di attività. Abbiamo già fatto due anni di corso di formazione, quest'anno ne faremo il terzo, nel 25, in cui le componenti sanitarie vengono un po' a essere accompagnate nei vari percorsi delle tecnologie. E quindi ci auguriamo che oggi pomeriggio, quindi chi non si è iscritto, invito a venire, non tanto perché io dica delle cose chissà quali novità, però tracciamo insieme anche con alcune esperienze che ho visto delle persone iscritte, un percorso di approccio alla metodologia progettuale di un sistema automatico, di un sistema moderno e di tecnologie. quindi l'ultimo elemento che voglio sottolineare è che la tecnologia da sola non basta e infatti come trovate anche nell'editoriale della rivista che avete, la tecnologia da sola non risolve i problemi ma aiuta, però non basta da sola, c'è un tema di riorganizzazione dei processi e questa è forse la parte più lenta che vedo nel mondo sanitario. La tecnologia e chi è bene, l'industria sa benissimo che non basta applicare un sistema digitale per far funzionare meglio le cose, bisogna che la gente lavori insieme e coordinato con il sistema digitale eccetera eccetera. L'evoluzione dei processi in ambito sanitario è un po' più lento. Se devo mettere un elemento di ombra, questo è l'aspetto su cui dobbiamo forse ancora lavorare. Detto ciò apriamo contenio con direi uno slogan, la tecnologia fa bene, fa bene la salute potremmo dire da questo punto di vista. Quindi io ringrazio fin d'ora i relatori che comincio a chiamare per la prima sessione. Allora poi vi presento meglio, però intanto Gianni Piroddi, Davide Fedeli, Matteo Buffani e Daniela Lazzaretti, poi via via vi introduco un po' meglio. Allora quindi noi abbiamo in questa prima sessione che è focalizzata sulla logistica, poi le altre come avete visto c'è un'espansione a temi di vario, un po' più ampi, soprattutto l'ultimo guardiamo veramente al futuro delle tecnologie. Quindi in questa prima sessione logistica ospedaliera in senso stretto, il core del nostro evento. Allora cominciamo quindi da Gianni Piroddi, DHL, General Manager del settore Biofarma, Health and Beauty Care, Medical Devices, DHL. DHL è un ospite ricorrente del nostro evento, ha tanto da dire, ha tante realizzazioni, quindi all'imbalzo della scelta. Bene, buongiorno a tutti. È la prima volta che io vengo a questo evento, per cui è anche, come dire, un piacere incontrare le persone e spero di raccontarvi un po' di cose nuove, cose nuove legate al mondo DHL ma specialmente legate al mondo Pharma, a quello che DHL può fare e che aiuto può dare anche in termini di innovazione a questo settore. In primis due parole su chi è DHL, penso che molti la conoscano, però focalizzarci su alcuni numeri per dare il senso della presenza in questo mondo e anche dell'espertisa e delle conoscenze che abbiamo. Siamo presenti in tutto il mondo, in oltre 50 paesi, con quasi 200.000 collaboratori in tutto il mondo, 17 milioni di magazzini e 2.000 magazzini di poli commerciali presenti in questi 50 paesi. Per cui una presenza capillare, questo specificatamente, solo ed esclusivamente nel mondo warehousing e trasporto, per cui gestione di magazzini e trasporto locale, oltre a tutte le attività che fa DHL che conoscete, di Corriere Espresso, di attività navale, aereo e di e-commerce. In Italia, vediamo cosa facciamo in Italia. In Italia noi facciamo parte di un gruppo, il gruppo di DHL sono tre aziende, il brand DHL ma anche il brand Meet e il brand Eurodifarm, per cui tre società che gestiscono le attività di logistica nel nostro territorio. Abbiamo fatturato, abbiamo superato i 500 milioni, noi abbiamo celebrato i 500 milioni di fatturato lo scorso anno e siamo presenti con un milione di metri quadri di magazzini in tutto il territorio italiano e la cosa importante è che abbiamo avviato un percorso di gestione dell'attività attraverso personale diretto, per cui non più attraverso gestione di cooperative, personale terzo o appalti all'interno della nostra organizzazione, ma con personale diretto e quindi quasi 3.000 persone che sono tutti dipendenti di DHL. E siamo stati anche certificati Great Place to Work, cosa importante perché in questo processo di internalizzazione delle persone arrivare alla certificazione vuol dire che veramente le persone hanno apprezzato questo percorso di gestione diretta delle attività. Cosa facciamo nel mondo Life Science and Health Care? In Italia abbiamo quattro grossi campus in cui gestiamo le attività del mondo pharma, gestiamo circa 2 milioni di ordini su base annua, per cui una quantità molto importante di volumi di spedizioni, che sono circa 1.200 milioni di unità che noi spediamo a farmacie, ospedali e grossisti tutti gli anni, per cui decisamente un'entità importante, un'affetto importante delle attività che facciamo per questo mondo. I quattro campus sono focalizzati principalmente su due aree, Roma e Milano, abbiamo un campus a Settala di 60 mila metri quadri, un campus a Livraga di 50 mila metri quadri e poi uno specializzato a Vercelli di 9 mila metri quadri sui medical devices e a Santa Palomba 30 mila metri quadri per replicare il doppio polo Milano e Roma per essere più efficaci nella distribuzione sul territorio. Stiamo parlando di 150 mila metri quadri, quindi di magazzino totali con anche attività di officina farmaceutica e co-packing. Distribuzione? Distribuzione la effettuiamo sia attraverso il network Eurodifarm, che penso che gran parte di voi conoscano, per cui presenza capillare sul territorio, distribuzione su tutti i canali e capacità di consegnare sia 15-25 gradi, 2-8 gradi e distribuzione sul mondo farmaceutico, ospedali, distributori e per cui copriamo un po' tutte quelle che sono le aree di servizio all'interno del mondo farm. E poi abbiamo anche il network DHL che supporta il mondo Eurodifarm per consegne ai grossi distributori, consegne particolari e attività specifiche, oltre al mondo MIT che per il radiofarmaco o per altre attività conoscete molto bene. Qual è il percorso che DHL ha fatto nel mondo Life Science? Diciamo abbiamo voluto focalizzare quattro passi importanti in questo percorso che noi abbiamo intrapreso per supportare e per essere veramente un partner importante in questo mondo. Il primo è specializzarsi per canali, per cui noi sappiamo, abbiamo capito, abbiamo recepito le esigenze del mercato e ci siamo focalizzati sui canali specifici, per cui sappiamo che ci sono dei sottosettori che hanno esigenze diverse, i medical devices, lo specialty pharma, il pharma retail, che pur essendo tutti in un mondo pharma comunque hanno esigenze particolari, quindi la specializzazione per sottosettore ci permette di essere più efficaci nell'andare a toccare quelle che sono le esigenze specifiche del canale. Soluzioni integrate, per cui un altro plus importante è dare un servizio unico dall'inizio alla fine della filiera, per cui se c'è un'esigenza di arrivo delle merci dalle fabbriche, stoccaggio, consegna alle farmacie piuttosto che agli altri canali, noi possiamo dare un servizio completo, per cui un interlocutore unico è in grado di gestire queste attività all'interno della filiera. Terzo punto importante, dopo che uno dà il servizio, le attività e quant'altro, è l'innovazione, la tecnologia, per cui ne abbiamo parlato prima, poterci focalizzare e avere delle soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate, è la necessità del mercato e l'esigenza che noi stiamo cercando di coprire. Ultimo punto è, oltre alle soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate, la digitalizzazione è accelerare su quello che è la focalizzazione sul cliente e dare una customer experience particolare e specifica a quelli che sono i clienti del mondo pharma. per i primi due punti, per cui la parte legata alla specializzazione di settore e servizio end to end, è chiaro che noi lo facciamo attraverso dei campus specializzati che si sono suddivisi l'attività per i sottosettori che ho citato prima, abbiamo delle aziende specializzate sul trasporto che non solo sono specializzate sul trasporto, ma attraverso concetti di control tower che coordinano i trasporti della filiera e attraverso customer service dedicati capaci di rispondere alle esigenze dei clienti che parlano la stessa lingua dei nostri clienti e attraverso i tool specifici come il My Supply Chain che è un tool di track and trace che permette di dare visibilità a tutto ciò che accade nella filiera, riusciamo veramente a coprire tutti i servizi end to end e tutte le esigenze degli specifici canali. Per quanto riguarda invece il terzo punto dell'innovazione vi faccio vedere un video veloce che mostra due innovazioni che abbiamo portato avanti che sono uno legato a degli assisted picking robot per cui dei robot che supportano le attività all'interno dei magazzini sgravando le persone dall'attività più pesante dell'attività di picking e un'automazione invece un po' più complessa che è come viene chiamata good to person per cui in cui i prodotti vengono portati direttamente all'operatore che fa soltanto l'unica vera attività a valore aggiunta all'interno del magazzino che è la scelta dei prodotti, l'inserimento dei prodotti all'interno della scatola per le spedizioni. Grazie per la visione! 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 Allora passiamo al secondo relato, la scaletta non è proprio casuale nel senso che man mano appunto ci avviciniamo con i vari relatori fino al paziente, quindi questa è un po' la logica, siamo partiti dalla rete e via via andremo sempre più vicino al paziente. Quindi il secondo passo lo facciamo con Davide Fedeli, Head of Operation di CNAP, che ha un'esperienza anche qui molto consolidata sia nel settore di automazione industriale che in quello sanitario e per cui parleremo di omnicanalità e soluzioni tecnologiche, anche qui omnicanalità nel tema della sanità è anche qui una parola relativamente nuova. Buongiorno a tutti, esatto, nel percorso ormai come avete visto anche gli altri anni abbiamo sempre cercato di portare dei casi reali anche per, come dire, CNAP è presente in 60 paesi, quindi abbiamo la possibilità anche di vedere cosa succede al di fuori dei nostri confini e spesso e volentieri vediamo che poi nascono tendenze che vengono poi replicate anche nel mondo, nel nostro mondo, nel mondo nazionale. In questo caso portiamo questo caso specifico che si chiama Limedica rispetto a casi precedenti dove ho presentato un'integrazione a monte, ad esempio due anni fa ho presentato l'integrazione tra il mondo dei depositari e il mondo dei distributori. In questo caso mostro un caso di integrazione a valle, ovvero in questo caso il caso Limedica, Limedica è un'azienda lituana, è uno dei più grandi distributori lituano, fa parte di questo gruppo Pelion presente soprattutto forte nell'est Europa, che aveva una sfida particolare, sempre più nel mondo lituano stava nascendo anche l'esigenza dell'e-commerce e qui il discorso di omnicanalità nasceva dall'esigenza di creare un magazzino che fosse in grado di distribuire nella maniera tradizionale se vogliamo, quindi distribuire verso le farmacie, farmacie in questo caso di proprietà, quindi parliamo di circa 330 farmacie, ma anche la possibilità di distribuire con due nuovi canali, un e-commerce vero e proprio con consegna all'utente finale e un sistema di click and collect. Uno però anche dei punti base era quello di non perdere il magazzino attuale, ovvero di far crescere il magazzino attuale aggiungendo questi nuovi canali di vendita, questi nuovi canali di distribuzione. Beh capite bene che quello che è il mondo nato per distribuire verso catene di farmacie, quindi su cassa, con ordini con molte righe, con più pezzi per riga, è ben diverso da quello che è il mondo dell'e-commerce e il rischio è anche quello di, come dire, di far morire tra virgolette l'impianto nel momento in cui lo si va a gestire per ordini con una singola riga, con un pezzo per riga. E qui il vantaggio di un'azienda come Knapp che opera in tanti settori e qui dico sempre una cosa, innovare non è per forza inventarsi qualcosa di nuovo, è guardarsi attorno, vedere cosa succede attorno e capire se magari soluzioni già consolidate in altri mondi possono essere trasportati in altri settori. Nel caso specifico il mondo dell'e-commerce era molto sviluppato ad esempio nel mondo del fashion o del retail. Il rischio qual era? Quello di cercare sempre di fossilizzarsi sulle tecnologie, ma abbiamo sempre fatto così, nel mondo della distribuzione farmaceutica si è sempre fatto così. In passato la distribuzione farmaceutica è stata pioniera di tecnologie, di soluzioni e ha insegnato agli altri settori. Ecco, questo è proprio il caso specifico in cui invece è avvenuto l'effetto opposto. Quindi dal mondo dell'e-commerce, del fashion, soluzioni tipiche di quel mondo, sono state trasportate in un settore nuovo se vogliamo, che è quello della distribuzione farmaceutica, dell'e-commerce e del click and collect. Ovviamente avere nuovi canali vuol dire anche aumentare gli articoli, poter aggiungere altri articoli, aumentare gli stocchi a disposizione. Dover gestire proprio anche fisicamente, quindi non più una spedizione in cassa, ma una spedizione in busta, piuttosto che in scatola, e quindi anche l'effetto poi sui corrieri a valle. distribuire a cassa in farmacie è ben diverso che andare a distribuire nelle singole abitazioni. E qui è nata l'idea sulla nostra esperienza dell'e-commerce, quindi dei sistemi a capi appesi, o meglio, dei pocket sorter, ovvero queste tasche dove posso mettere oggetti e in automatico, e qui lo vedremo poi nel filmato, in automatico andare poi a preparare quelle che sono le buste. Ma non solo, pensate al mondo della classica distribuzione, che ha principalmente due picchi principali di distribuzione, quello a cavallo di mezzogiorno e poi quello serale. Questa soluzione permette anche di andare a lavorare tutti questi ordini nel momento in cui l'impianto sarebbe stato fermo. Un impianto che lavora su più ore vuol dire anche ottimizzare quello che è il ritorno dell'investimento. Ma non solo, una tecnologia come quella delle tasche permette di utilizzare la terza dimensione. Se andate tipicamente nei magazzini della distribuzione farmaceutica, spesso e volentieri vi rendete conto che è tutto appoggiato a terra. Quindi rimane molto spazio libero a monte, a monte intendo verso il soffitto. Beh, ma le tasche sono appese al soffitto, questo mi permette di sfruttare spazi che io ho già e non vengono utilizzati, o comunque di liberarmi dell'ulteriore spazio a terra. Nel caso di Limedica è stata fatta una combinazione, è stata fatta una parte di realizzazione di un compartimento nuovo di fianco al magazzino esistente, ma completamente integrato nel magazzino che già c'era. Questo ha permesso appunto di andare con questo sistema tasche. Immaginate i sistemi delle lavanderie, tanto per capirci. Quindi questi sistemi che avrete visto, proprio perché nasce dal mondo del fashion, di capi che vengono appesi a queste sorte di catenari a soffitto. Beh, Knapp, ormai quasi dieci anni fa, ha sviluppato una soluzione, partendo da quella tecnologia, a tasche, dove addirittura le tasche si aprono in automatico e mi permettono di scaricare il prodotto contenuto in la confezione di spedizione, la busta di spedizione ad esempio. Ma non solo. Questo sistema mi permette anche di lavorare in tempi diversi gli ordini, di poterli stoccare all'interno delle stesse tasche, andare a ordinarli e andare in funzione di quello che è l'orario di cut off, quindi l'orario di arrivo del corriere che dovrà ritirare quegli ordini, di prepararli istantaneamente in quel momento. Come è stato realizzato? Beh, come vedete qui, di fatto vengono riutilizzate le stesse macchinari che già c'erano, i famosi e-frame che sicuramente avrete già visto e che sentito nel mondo della distribuzione farmaceutica, per fare di fatto delle attività di picking massivo, mandarle semplicemente a delle stazioni a mo' di cassa del supermercato, tanto per capirci, dove un operatore semplicemente pezzo a pezzo butta dentro queste tasche leggendo il codice, quindi viene fatto in automatico anche quello che è un abbinamento tra contenuto della tasca e il prodotto e quindi a monte andare poi a riordinare un eventuale ordine e andare poi a richiamarlo nel momento corretto. Come vedete queste tasche si aprono in automatico, ovviamente nel mondo della distribuzione farmaceutica ci sono oggetti in vetro, oggetti delicati, quindi c'è anche un'attenzione nella manipolazione del prodotto. Ecco, ci sono soluzioni per maneggiarle in maniera, come dire, controllata e delicata. Andando quindi a preparare poi delle buste che possono, siccome il corriere non arriverà magari in quel momento, magari arriva la sera alle 6 a ritirare il prodotto, ho la possibilità di ristoccarlo all'interno delle stesse casse, quindi di nuovo liberandomi spazio a terra e andando allora a richiamare quando sarà il momento. Ma al di là di tutte quelle che sono le parole, niente come il video è più esplicativo del caso specifico. Grazie a tutti. 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 Anche qui un commento, è molto interessante il fatto che tecnologie utilizzate in altri ambiti, perché il tema delle tasche, eravamo abituati a vederlo nel settore dell'abbigliamento, invece aiuta. e questo mi fa anche pensare che anni fa quando abbiamo iniziato a lavorare su questi temi, molta reazione al mondo sanitario è ma vuoi mica mettere la difficoltà della sanità rispetto al mondo industriale, loro fanno pezzi tutti uguali, noi invece abbiamo tantissima varietà. in questo caso è una dimostrazione che la tecnologia aiuta la complessità. Sì, è esattamente questo, come dicevo, negli anni indietro è stata proprio la distribuzione farmaceutica ad insegnare agli altri settori, perché se pensiamo alla distribuzione farmaceutica, alla rapidità di consegna, la quantità di articoli che deve gestire, è stata un po' pioniera ed è stata quella che ha insegnato agli altri settori. Però il rischio è proprio quello di fossilizzarsi e dire, ok, ma abbiamo sempre fatto così. E in questo caso invece c'è stata proprio la capacità di guardarsi attorno e dire, beh, ma è arrivato il momento di cambiare, di guardare anche gli altri settori cosa fanno e magari scoprire, come in questo caso, che tecnologie collaudatissime, perché ripeto, le tasche nel mondo del fashion si usano ormai da una decina d'anni, replicarle nel mondo del farmaceutico è un'innovazione. Certo, noi oggi diamo per scontato che in due ore, tre ore il prodotto sia in farmacia, quindi siamo abituati, ormai questo tipo, per farlo arrivare è questo. Anche se io ho una prospettiva futura che quella in tre ore arrivi a domicilio, ma questo è un altro ragionamento che va fatto poi su altri tavoli. Grazie, allora, entriamo proprio quasi in ospedale adesso, ok? Quindi Autostore, Matteo Buffagni, Business Development Manager di Italia Autostore, quindi la parte di fornitore della tecnologia, insieme a Adolfo Pacelli, CTO, Project Manager, Traser, Owner, Omnipro, quindi l'utilizzatore della tecnologia per il mondo sanitario. Allora, Autostore ha un po' di anni fa, 15 anni fa, siete partiti col primo prototipo? In Italia sì, o meno fuori diciamo già dal 2004. Esatto, che è stato uno dei primi a rivoluzionare il concetto di magazzino, suddivisione degli spazi in magazzino perlomeno. Sì, è il concetto cubico, cosiddetto cubico. E anche lì, poi siete arrivati alla sanità. Esatto, allora grazie, intanto per chi c'era l'anno scorso, io avevo presentato un case study di Autostore, che è un sistema good to person, di stoccaggio e preparazione ordini, per un gruppo privato di farmacie, il più grosso gruppo privato svedese, che si chiama Apotea. Quest'anno abbiamo pensato di fare, diciamo, un'applicazione, perché l'healthcare, come sapete, ha varie sottosegmenti, molto diversi tra loro. Questo rappresentava farmacie e e-commerce. Quest'anno invece portiamo un caso ospedaliero, in particolare il caso Traser per gli ospedali AOSP e ASL di Bologna, realizzato da Traser, operatore logistico molto conosciuto nel settore della sanità, che ha implementato questo sistema a Bologna, per servire in particolare gli ospedali Sant'Orsola, Maggiore e altro. Quindi io non mi dilungherò tantissimo, vi faccio vedere un po' di slide su Autostore, chi è Autostore e cos'è il sistema Autostore, cosa fa, però poi lascerò la parola a Adolfo, che vi presenterà proprio il case study di applicazione di Autostore a questa realtà per un centro logistico ospedaliero. Autostore, allora, qua vedete lo sfondo di questo, questo sfondo non è a caso, ma è la sede di Autostore, che è in Norvegia, proprio in mezzo ai fiordi. Autostore è nato alla fine degli anni 90 da un distributore di materiale elettrico, che doveva ingrandirsi tantissimo e ha pensato di inventarsi questo sistema iperdenso, cubico, per risparmiare spazio e non costruire nuovi magazzini. Poi da qui è diventato il business principale, sostanzialmente come diceva Raffaele, poi in Italia si è sviluppato moltissimo dal 2010 in poi. Autostore è presente in 57 paesi, abbiamo circa 70.000 robot attivi su circa 1.500, quasi 1.600 impianti e 1.100 clienti. Lavoriamo con partner globali, integratori, sono 23 ad oggi nel mondo, sono tutti integratori globali che hanno già installato impianti in tutto il mondo con relativi 2.800 venditori, sostanzialmente. Qui vedete un po' la crescita di Autostore dal 2014 al 2024, questo è il primo semestre, quindi arriva a giugno 2024. Come vedete negli ultimi 4-5 anni c'è stata una crescita esponenziale proprio per la necessità di sistemi tipo Autostore sempre più veloci, performanti, iperdensi, anche con l'aumento dell'e-commerce, diciamo con l'esplosione dell'e-commerce. Qui diciamo una breve escursus delle capacità principali del sistema Autostore è un sistema, come dicevo, good to person, molto semplice, creato da una griglia, ha eliminato questo sistema, perché dicevamo rivoluzionario, perché ha eliminato totalmente gli spazi tra gli scaffali e l'aria, sostanzialmente, all'interno del magazzino. i bin sono stoccati uno sull'altro in maniera cosiddetta cubica, senza sprechi. Come vedete qui, dove parla di densità, c'è un'occupazione dello spazio di più maggiore del 90%, cioè l'unico spazio occupato è sostanzialmente quello della griglia, in alluminio. Quindi in termini di capacità, è un sistema molto performante, ovviamente essendo iperdenso può stoccare un numero altissimo di SKU, anche abbiamo sistemi che stoccano anche più di un milione di SKU. La velocità del sistema autostore è aumentabile, aumentando i robot sulla griglia che girano sopra la griglia a livello 1 e aumentando il numero di baie, per cui, diciamo, si arriva a prestazioni altissime, anche paragonabili a quelle degli shuttle. Una nostra baie tipica va a 350 righe ora, ma abbiamo vari tipi di baie, baie che vanno a 450 e fino a baie che vanno fino a 650 righe ora a picker, quindi a baie. Un'altra cosa apprezzata del sistema è che è molto modulare e scalabile, nel senso che si può espandere la capacità aumentando la griglia in alluminio senza espandere le performance, lasciando gli stessi robot e le stesse baie, ma viceversa se un ospedale o un centro logistico ha bisogno di aumentare il numero di righe ora e vase, ma non ha necessità di aumentare lo stock, si mantiene la griglia fissa e semplicemente si aggiungono robot e baie. Due aspetti molto importanti nell'healthcare sono l'accuracy e la reliability, quindi la precisione del picking è il 99.9%, quindi essendo un sistema good to person si arriva a valori molto elevati e la reliability è l'affidabilità del sistema. Essendo un sistema estremamente ridondante grazie ai robot e grazie alle baie operatori, sostanzialmente non esiste un unico punto di fermo dell'impianto autostore, e questo è molto importante anche nella sanità per evitare i rischi di... ovviamente se non si serve un ospedale è diverso che se non si riesce a servire un tipo di cliente diverso. La reliability quindi arriva al 99.7%, diciamo che il problema che si può incontrare nel sistema autostore è che si fermi un robottino sopra la griglia, ma come dicevo ci sono n robot che girano contemporaneamente che continuano a funzionare anche se un robot è fermo e il robot si può togliere dalla griglia diciamo in un tempo molto breve con un sistema automatico. Qui diciamo vedete un attimo autostore è trasversale un po' a tutti i settori, diciamo dall'apparel all'industria, agli operatori logistici, lavoriamo con molti operatori logistici in tutto il mondo, anche in Italia, general retailer, grocery, la GDO, l'automotive per le parti di ricambio principalmente a servimento linee come nell'industria, consumer electronics, luxury e personal care. Per quanto riguarda l'health care invece abbiamo vari settori di utilizzo, come dicevamo prima, può esserci quello delle farmacie e-commerce, gruppi privati di farmacie, ci può essere quello dei centri logistici ospedalieri che in Italia, diciamo, in cui in Italia negli ultimi anni c'è un grosso trend, noi abbiamo già due sistemi installati, due centri logistici importanti e molti progetti in corso per centri logistici e uno di questi è quello già realizzato che presenterà Adolfo successivamente. Questo è uno studio, diciamo brevemente, che è stato commissionato da Autostore a un'azienda terza indipendente che è Forrester, che ha intervistato varie aziende utilizzatrici di Autostore e ha rilevato come media questi valori, diciamo, questi KPI raggiunti che sono il risparmio di un 75% del footprint a terra, un risparmio di spazio quindi altissimo, un saving del lavoro, quindi aumento della produttività di circa il 50%, una picking accuracy del 99%, miglioramento della picking accuracy del 99% e un 100% di eliminazione dei furti grazie al fatto che Autostore è completamente blindato, anche questo è un aspetto molto importante nella sanità. Non si ha assolutamente accesso da nessuna parte, se non dalla baia, ai prodotti. L'ultima parte è il 33% di saving dei costi durante i picchi di lavoro, ovviamente quando uno ha un picco di lavoro e dovrebbe estendere il turno, i costi di estensione del turno sono molto alti, per cui si eliminano molti costi del picco durante i picchi. Questa è una slide che fa vedere un po' la distribuzione media dei costi logistici all'interno di un magazzino, come vedete il 55% dei costi deriva dall'area picking e in particolare il picking a pezzi che è tipico del scare, quindi del servizio reparti ospedalieri, quindi diciamo qui si posiziona proprio Autostore nella preparazione degli ordini per i reparti ospedalieri a pezzi o a piccoli colli, sia per dispositivi medici che farmaci che economali, quindi andiamo a gestire tutte le categorie. Come vedete è giusto un escursus per chi non conosce Autostore, è un sistema molto semplice, una delle forze del sistema Autostore e che genera anche bassi costi di manutenzione è che il sistema è estremamente semplice come meccanica proprio, vedete qui è formato da quattro elementi principali che sono la griglia d'alluminio, i bin che vanno infilati nella griglia e sovrapposti, impilati in plastica, i robot che girano soltanto sopra nel livello 1 della griglia e le baie che sono posizionate intorno a cui i robot consegnano i bin. Poi c'è un controller, un sistema software router di controllo del traffico che si preoccupa di efficientare al massimo la consegna di questi bin agli operatori con l'obiettivo di non lasciare mai le baie scariche. Perché Autostore? Perché, diciamo, cos'è apprezzato di Autostore? Soprattutto perché mette insieme tre elementi fondamentali, la velocità, la flessibilità, la scalabilità, la velocità tipica degli shuttle, la flessibilità e scalabilità tipica degli AMR e la densità tipica dei sistemi misti cubico shuttle. Adesso entriamo proprio nella parte forse che vi interessa di più, centri logistici ospedalieri in Italia. Come vi dicevo, ad oggi ne abbiamo due, questo è abbastanza storico, è stato il primo per servire l'ASL Friuli Venezia Giulia a Pordenone presso l'Interporto. È un sistema che occupa circa 700 metri a terra perché non va al massimo dei livelli perché l'altezza era minore e quindi siamo su dieci livelli a tre porte e nove robot. Qui è l'altro sistema che abbiamo invece appena implementato, è andato a GoLive da pochissimo a Novara per servire ASL Piemonte Nord-Est. È un sistema che gestisce 1760 ordini al giorno, righe ordini al giorno, in un turno solo. Lascio la parola adesso a Adolfo che entra nel caso specifico Trase. Buongiorno a tutti e grazie per la partecipazione. Allora, CTO Project Manager, due qualifiche in uno stesso progetto per poter far confluire tutta questa teoria di progettazione in una realtà sanitaria molto complessa, che è quella delle di Bologna, due realtà, una ASL e una ospedaliera universitaria, con due esigenze differenti, ma entrambe con la necessità del rispetto massimo della funzionalità giornaliera, dell'operatività giornaliera per la fornitura dei farmaci negli ospedali e nei reparti ospedalieri specifici. Tenere insieme la direzione tecnologica come CTO e la direzione del project management mi ha consentito di realizzare e di mettere veramente a disposizione della sanità uno strumento così evoluto come Autostore, che poteva essere visto in modo scettico inizialmente perché aveva un compito molto complesso, ma riuscire a passo dopo passo a tenere insieme la tecnologia e il project management che prevedeva anche il trasloco di tutto un padiglione logistico dall'interno del Sant'Orsola all'esterno verso un nuovo magazzino costruito ad hoc, poteva creare dei contraccolpi nella funzionalità giornaliera ospedaliera. Siamo riusciti a mantenere il servizio, ovviamente non senza contraccolpi, garantendo le consegne, garantendo lo stoccaggio, l'ingresso merci e tutta quella serie di obblighi giornalieri di un magazzino funzionale, nonostante l'introduzione di un elemento complesso, come ho già detto. Mi collego al discorso del professor Raffaele dal punto di vista della tecnologia che aiuta. In questo caso la tecnologia ha potuto aiutare un progetto così perché ha mantenuto il rapporto di partnership con l'ente appaltante e quindi anche la presenza di figure come i farmacisti ospedalieri, come altre figure e il management interno delle aziende importanti di carattere universitario, ci ha consentito di pianificare tutti i passaggi per arrivare a un punto che è ancora in progress per molti aspetti ma che comunque ha garantito il passaggio dal manuale, tra virgolette, o semi-manuale all'automatico. Vado avanti con le slide. La zona verde è quella dove è stato costruito l'autostore che si collega poi dopo lo scarico del materiale sulle baie di picking, che nel nostro caso sono tre, attraverso un binario di trasporto delle unità di spedizione UDS che vanno alla fine del percorso verso i sorter di distribuzione farmaceutica per cui questi sorter sono otto, vengono raggruppati per padiglione o per reparto e quindi la produzione delle UDS, delle unità di spedizione, viene poi alla fine convogliata nei percorsi pianificati in base al calendario. Parlo del calendario di distribuzione perché è a quello che vengono agganciati gli SLA, quindi i livelli di servizio garantiti e quindi in base a questa calendarizzazione giornaliera o infrasettimanale la trasera ha dovuto rispettare i tempi e soprattutto la composizione delle unità di spedizione potendo garantire anche la visualizzazione delle packing list per non contravvenire alle esigenze dei singoli richiedenti. L'appalto che parte nel 2021 vede due aziende l'azienda ospedaliera al centro in colore arancione e l'azienda ASL con delle basi di gara e delle basi d'asta che vedete molto differenti che però facendo riferimento al capitolato di gara vedono coesistere alcuni stoccaggio alcuni prodotti stoccati all'interno del singolo lotto 2 quindi l'otto 1 è un po' complesso da spiegare l'otto 1 e l'otto 3 appoggiano del materiale voluminoso all'interno dell'otto 2 per cui l'aggiudicatario che non era affatto sicuro che fosse lo stesso per tutti e due lotti e tutti e tre lotti deve garantire lo stoccaggio e la distribuzione di materiale per gli altri due lotti in questo caso Traser si è aggiudicato tutti e tre lotti e quindi distribuisce tutto il materiale per tutte e due i richiedenti riuscendo anche a fare delle ottimizzazioni che potevano sembrare impensabili inizialmente ma piano piano stanno dando i loro frutti per quanto riguarda le categorie maiceologiche utilizzate l'azienda ospedaliera universitaria ha tutte le categorie previste quindi economale e farmaceutico anche food quindi nutrizionali l'azienda sanitaria locale ha i farmaci per quanto riguarda l'otto 1 quindi un precedente appalto sempre gestito da Traser solo di farmacia che evolverà anche questo in un'automazione maggiore rispetto al precedente appalto e l'otto 3 invece che è solo economale e quindi l'insieme dell'otto 1 e dell'otto 3 rappresentano quello che in realtà è l'otto 2 che ha farmaceutico nativamente farmaceutico ed economale insieme gli obiettivi richiesti dal capitolato qui ripeto nel riquadro grigio si ripete le necessità che l'aggiudicatario dell'otto 1 dovrà gestire i beni dell'otto 1 e dell'otto 3 perché è richiesto proprio a livello di disciplinare di gara che questa cosa venga rispettata che si rispettino una serie di obiettivi ne leggo alcuni velocemente perché il tempo stringe noi sappiamo e quindi qui mi riaggancio al concetto della sicurezza del lavoratore al rispetto normativo dei tempi di consegna collegato ai calendari abbiamo un contesto di partenza molto complesso perché c'è stato il nuovo codice degli appalti ci sono state nuove piattaforme di acquisto telematico per cui gli enti sanitari hanno dovuto fare i conti con le innovazioni dei sistemi di acquisto telematico trovandosi molto spesso per un semplice CIG non attribuito a un determinato fornitore di farmaci a non poter acquistare a mandare in rottura di stock tutta una filiera intera sanitaria questo è una complessità che è ancora continua ma noi cerchiamo di compensare con diverse che poi potremmo approfondire in altre sedi con quale tecniche si riducono questi stress del sistema quindi questo si collega a una ridotta capacità di gestire le scorte molto spesso i picchi di acquisto e di distribuzione portano a degli sprechi che anche questi stiamo cercando di contenere le giacenze inventariali possono subire dei contraccolpi perché c'è sempre questo discorso dell'altalenanza degli arrivi e delle rotture di stock l'introduzione questa è un'innovazione molto importante l'introduzione della informazione di lotta e scadenza di tutto il materiale gestito è stata fatta da Trasere in questa sede perché precedentemente a questo a Bologna non c'era una gestione della scadenza è stato necessario fare delle modifiche al software regionale che è quello della GP per poter fare dei microinventari di ogni singolo bene e introdurre l'elemento lotta e scadenza dove non ci fosse per poi garantire anche a livello di distribuzione la tracciabilità e come saprete tutti la rintracciabilità di un eventuale lotto ritirato da un giorno all'altro fatto prima manualmente o in altre modalità vado velocissimamente ci sono stati risolvi i contraccolpi sul personale i contraccolpi sulla resistenza al cambiamento e alla paura delle nuove tecnologie che sono stato bravissimo a risolvere questi sono i partner Autostore per quanto riguarda il magazzino cubico Modula e qui non abbiamo ancora parlato è un magazzino verticale refrigerato che deve stare al passo con Autostore dal punto di vista della velocità del raggruppamento della spedizione dei beni ma avere comunque la coibentazione dell'unità di spedizione perché proviene da un'area refrigerata con sistemi di garanzia della temperatura da 2-8 gradi monitorati su cloud e sempre visibili dal personale addetto si convogliano sia il materiale di Autostore che del Modula sull'unico nastro di trasporto e si preparano le unità di spedizione un altro aspetto importante è il Wi-Fi perché sul tutto il magazzino i mezzi di movimentazione sono ho quasi finito vedo che si agita i mezzi di movimentazione sono teleguidati e garantiscono la sicurezza per i lavoratori per cui ogni mezzo di movimentazione ha una missione non può andare in conflitto con un altro mezzo e non può soprattutto urtare nessun operaio che passi senza mezzo di movimentazione questa è una rapida velocissima visualizzazione di come è stato costruito tutto da zero per cui anche questo trasferire fare un trasloco di un unico intero padiglione di logistico dall'interno del Sant'Orsola all'esterno a 30 km di distanza non bloccando il servizio è stata la vera sfida che Trasera è riuscita a mantenere in poco tempo abbiamo riempito le cassette questa è la vista dall'alto questa è la concretizzazione di quello che ha presentato Matteo prima questa è la concretizzazione del peaking da una baia di carico per cui l'operatore sta fermo arriva la cassetta con un carosello da tre cassette riempie sei ordini per ogni baia quindi 12 in totale smanda tutto su un altro trasportatore verifica col put light la quantità il lotto e la scadenza attraverso sto facendo una fatica in mane professore ho quasi finito sul touch screen vengono ripetute le informazioni di lotto e di scadenza proprio per il discorso che dicevamo prima questo è come viene rappresentato le due baie a pieno regime producono sei ordini a testa spediscono tutto sul nastro trasportatore questi sono i sorti di cui parlavo all'inizio per cui vengono suddivisi in otto percorsi di consegna per evitare che si intrecino malamente e erroneamente i percorsi di consegna questo è tutto il territorio servito dell'azienda sanitaria locale quindi nove ospedali 1400 punti di consegna 1450 posti letto tutto un territorio che arriva fino alla Toscana per cui questa è per servire il voluminoso dell'8-1 questo invece è il viaggio che si fa dall'interporto dove abbiamo messo il magazzino con l'autostore all'azienda ospedaliera universitaria con 1500 punti con 1500 posti letto dati del ministero della sanità quindi da solo il Sant'Orsola supera i posti letto del totale dei nuovi ospedali della USL e comunque Trasera è riuscito a garantire una consegna di tutti quanti i beni nel passaggio da un appalto all'altro questo è come strutturato il Sant'Orsola 32 padiglioni 84 reparti questo è il metodo della consegna dei camion con le RFID e mi aggancio ai concetti RFID ne parlava poco fa Knapp scusi dobbiamo chiudere chiudiamo e questo è l'integrazione software che comunque meriterebbe un'altra un sedicesimo appuntamento di Tricetemi soltanto per parlare di questo ringrazio tutti e passo la parola grazie grazie mi scuso per la persione per scusarmi da una parte uno mi prenoto con i colleghi con cui lavoriamo per venirlo a vedere e secondo mi viene in mente che su realizzazioni così grandi il tema è non solo la tecnologia ma c'è un tema di organizzazione quindi di specialisti e quindi di provider logistici che devono intervenire quindi technology provider e azienda sanitaria che però all'interno deve avere le competenze e quindi guardo le persone che l'hanno seguito con voi questo progetto altrimenti non c'è la possibilità di evolvere allora l'ultima realtà andiamo veramente qui andiamo all'ultimo miglio all'ultimo miglio 10 minuti se no il collega non è sempre fortunato essere gli ultimi esatto grazie e quindi stiamo parlando di Daniela Lazzaretti CEO di Sintesia sì grazie professore buongiorno a tutti a questo punto devo dire il tempo tiranno mi fa entrare direttamente in media res come si dice d'altra parte in verità non posso esimermi dal darvi una presentazione della società Sintesia è una start up innovativa quindi immagino che nessuno di voi pochissimi di voi la conosceranno il nostro core è la tecnologia quindi diciamo che stiamo perfettamente all'interno di questa eminente cornice tuttavia ecco diciamo che parto raccontandovi una start up innovativa un po' anomala quando dico siamo una start up innovativa vengo guardata Steve Jobs ha fatto un ottimo lavoro quindi normalmente al concetto start up innovativa si associa giovani visionari magari ma comunque giovani e possibilmente con dietro un garage ecco il racconto per noi parte con questa anomalia noi devo dire purtroppo giovani non siamo io e i colleghi che abbiamo fondato la società messi insieme abbiamo fatto un conto facciamo più di cent'anni e non parlo di vita parlo di esperienza professionale insomma diciamo che voglio pensare che questo sia comunque un valore aggiunto per fortuna però non abbiamo un garage dietro le spalle abbiamo la Logi Biotech che è una società nostra partner strategica tecnologica già affermata ben affermata nel mondo della tecnologia che anche qui mutua dall'industrial e che in tempi recenti ha deciso di portare a servizio della salute quindi peraltro devo dire giusto per mostrare i muscoli Logi Biotech a sua volta fa parte di un gruppo particolarmente importante Fai Utilities un gruppo privato italiano quindi orgogliosamente made in Italy che ha stampato con il suo miliardo e 400 milioni di fatturato il proprio nome nella golden list dei super champions di Corriere della Sera questo diciamo rende una piccola anomalia per la nostra società e dall'altra parte ci dà anche però la possibilità di essere come posso dire stabilmente solidamente tranquilli nell'affermare quelli che sono i nostri principi principi di riferimento che alla fine per brevità e anche per semplicità sono portiamo la tecnologia nel sistema salute il perché è semplice e penso che sia chiaro e evidente a tutti voi che siete convenuti qui ma permettetemi di riprenderlo per sumi capi oltretutto utilizzando una diciamo una definizione a cui io sono affezionata è mia e del dottor Zanoni insieme di Motore Sanità che dice non parliamo di sistema allo sfascio perché non è giusto parlare di un sistema sanitario italiano allo sfascio parliamo tuttavia di un sistema che sta guardando sta per affrontare la tempesta perfetta il combinato disposto del numero di anziani fortunatamente che godono di una vitalità purtroppo con numerose patologie sempre più lunga determina un incremento di una domanda che il territorio purtroppo non riesce a drenare esiste quindi fin tanto che anche il territorio non sarà stato in grado di mettere a disposizione la capacità di una presa in carico del paziente cronico domiciliare quindi questo afflusso marcato verso le strutture ospedaliere che manco a dirlo godono oggi come non mai di un problema enorme di carenza di risorse personale mezze eccetera quindi è chiaro che ci vuole una risposta veloce per rendere efficiente il sistema per mantenere se volete quello che è il nostro tesoro di riferimento che è il sistema assistenziale universalistico noi crediamo che la tecnologia senza se senza ma possa essere la risposta di efficienza di sistema di riduzione di costi e quindi della possibilità di come posso dire mediare una trasformazione che se vogliamo possiamo proprio definire rivoluzione nel modo più corretto devo dire che aggiungo volentieri due specifiche due clausole che per noi completano il concetto di tecnologia tecnologia senza se senza ma sì ma con alcune con due caratteristiche fondamentali crediamo in una tecnologia che non sostituisce l'uomo se non nelle sue mansioni vili e soprattutto in area salute Dio solo sa quanto abbiamo bisogno di liberare il nostro personale dalle operazioni ripetitive vili dalle mansioni che portano via solo tempo per consentirgli di dedicarsi invece a quelle che sono le mansioni utili nobili e che portano effettivamente il valore a quella che è l'assistenza dall'altra parte per noi la tecnologia buona è quella che è ancillare al sistema il professore ne ha accennato c'è come posso dire un problema o comunque c'è ci deve essere un'attenzione nel modo in cui la tecnologia entra nel sistema ecco noi non crediamo in una tecnologia che entra sovvertendo il sistema perché tutte le volte che entra una tecnologia che impone delle modifiche troppo importanti alle operazioni bene a quel punto ma anche ce lo possiamo attendere che si elevano delle barriere in termini di resistenza quindi una tecnologia buona e ancillare che noi abbiamo inteso soprattutto qui oggi presentarvi rivolta all'aderenza alla terapia quindi diamo per scontato che i farmaci arrivano nel posto giusto ma purtroppo dal posto giusto devono arrivare alla persona giusta e nel modo giusto cioè al paziente parliamo di aderenza alla terapia perché è un problema uso l'espressione dell'organizzazione mondiale della sanità parla di un problema mondiale dalle dimensioni impressionanti ed effettivamente io so che qui parlo a un pubblico anche misto devo dire che è assolutamente trasversale la mancata aderenza alla terapia si esprime sul territorio laddove i pazienti non sono in grado di assumere correttamente i farmaci io tutte le volte oramai sono avvezza a mostrare questi numeri ma vi devo dire che mi impressionano sempre il 50% dei pazienti non è in grado di seguire correttamente la terapia che già di per sé è una cosa seria diciamo così fa impressione questo ancora vedete è un dato MS non ce lo siamo inventati ma ancora più importante è il fatto che naturalmente un paziente che non segue correttamente la terapia quindi con una banalità tende ad ammalare quindi l'aumento delle patologie delle recrudescenze delle ricadute finisce in ospedali quindi ricoveri ospedalieri questo numero l'impatto di 11 miliardi di euro per il sistema sanitario che finalmente il ministro della salute ha riconosciuto come uno spreco è valutato sul numero di ricoveri che si rendono necessari per i pazienti che non vengono non sono in grado di assumere correttamente la terapia quando il problema della mancata aderenza alla terapia si sposta su enti e strutture ha delle dimensioni diverse e qui parliamo della capacità della struttura di portare correttamente la terapia che è stata prescritta di somministrarla correttamente al paziente qui si aprono dei problemi naturalmente di natura differente quello che forse colpisce prima di tutto è il rischio quindi il rischio nella gestione e il risk management nella gestione della somministrazione delle terapie giusto cioè giusto che questo sia il primo pensiero la regione Lombardia ci aiuta con dei dati che trovo anche in questo caso particolarmente suggestivi questo è uno studio pubblicato nel 2019 gli errori terapeutici pesano come terza voce per quanto riguarda i premi assicurativi che sono stati riconosciuti a pazienti danneggiati e non è solo la terza voce ma pesa per 125 milioni che io in dieci anni e attenzione tuttavia la considero un numero di un certo rispetto visto e considerato che immagino che rispetto alla somma degli errori di terapia questa possa essere assolutamente la punta di un iceberg quindi se aggiungiamo il fatto che secondo il mio avviso e l'esperienza che porto dalla corsia il rischio il risk management non è l'unico problema ma il problema vero per quanto riguarda la corretta somministrazione della terapia ai pazienti ospedalizzati o in struttura è quella del tempo è quella del personale quindi diciamo ci troviamo in un inviluppo maledetto permettetemi di problemi che si ripercuotono l'uno sull'altro generando un'enorme inefficienza e naturalmente dei costi impressionanti ecco noi abbiamo osservato questo problema e naturalmente diciamo in modo coerente abbiamo reputato che la tecnologia dovesse non potesse dovesse intervenire in questo sistema per renderlo efficace per renderlo efficiente e quindi per migliorarlo quindi sostanzialmente il nostro obiettivo che ci siamo posti iniziando il percorso come startup innovativa è stato quello di studiare un modo il più utile possibile per automatizzare la preparazione delle terapie personalizzate questo sia nel contesto del territorio quindi della farmacia di comunità sia nel contesto del reparto ospedaliero l'automazione della preparazione delle terapie personalizzate vede già una certa offerta noi ci siamo concentrati da buoni ultimi in questo caso arrivare ultimi non è del tutto inutile anzi è comodo perché si prendono quelle che sono le offerte e si cerca di migliorare quello che è l'offerta generale qui naturalmente mi spreco nel dare un'ovvietà cioè l'obiettivo di questo dell'utilità se dobbiamo decidere insieme quali sono le caratteristiche che definiscono utile una soluzione questa deve essere una soluzione che diminuisce migliora la gestione del rischio questo l'ho sentito spesso ma permettetemi di aggiungere che non può non migliorare anche il tempo che viene dedicato a questa operazione la preparazione delle terapie in ambiente ospedaliero è la più time consuming è la più assurda devo dire che io vedo ancora svolgere da personale da uomini quindi che la macchina venga a sostituire gli uomini in questo tipo di percorso per portare efficienza disporre di più tempo e generare dei risparmi mi sembra che sia lo stretto indispensabile quindi il tempo ma anche lo stile fa sì che non vi faccia le domandine allora voi che cosa vorreste come macchina perfetta a questo punto vi dico subito quello a cui noi abbiamo pensato quando ci siamo seduti a tavolino abbiamo detto beh dobbiamo fare una macchina che performi per questo allora abbiamo pensato che dovesse essere piccola qui non mi voglio badate non mi chiamo per forza in contrapposizione con l'offerta esistente dico quello che noi abbiamo pensato perché ci sembrava ragionevole se è vero che la terapia viene preparata in reparto io preferisco una macchina molto piccola che tecnicamente può anche entrare in reparto a sostituire solo quella porzione di impegno che è quello dell'uomo che è quella più fastidiosa quindi piccola vuol dire maneggevole peraltro non dimenticando il fatto che c'è la possibilità anche che una macchina del genere venga adottata nelle farmacie di comunità perché no piccola vuol dire economica soprattutto se penso che una stazione del genere può essere deve essere destinata al momento in cui si fa la preparazione quindi il reparto quindi devo pensare a moltiplicare queste unità tecnicamente raggruppando magari i reparti però tecnicamente fino al punto più vicino al letto del paziente la volevamo efficiente naturalmente quindi per efficienza si intende l'abbiamo detto processo robotizzato ci sono e manca soltanto il video praticamente processo robotizzato che consenta la tracciabilità totale quindi l'operatore deve fare pochissimo la macchina deve fare tutto e tracciare fino in fondo quando vedo che ancora oggi ci sono dei modelli che prevedono lo scarico del farmaco quando esce dalla farmacia centrale unità di misura a scatole mi indigno perché il farmaco deve essere scaricato unità di misura a dose quando viene somministrato al paziente quindi questo era l'obiettivo che ci siamo posti la sostenibilità quindi risparmiare spazi preparando preparando in estemporanea minimo consumo di materiale e dall'altra parte l'integrazione a Montavalle con il sistema vi faccio vedere quindi sulla base di queste premesse quello che è stato il primo prototipo per vedere il secondo prototipo invece vi invito su in sala buffet dove abbiamo esposto quello che è il prototipo che oggi destiniamo al mercato grazie 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 a tutti delle presentazioni quindi abbiamo fatto un bel escursus dal back fino al front end finale quindi io lascio la parola allo spazio a Emanuele Porazzi colleghi grazie ancora e avete ovviamente modo di dialogare con i partecipanti grazie a tutti e chi non si è ancora iscritto ovviamente oggi pomeriggio vi chiedo di iscrivervi per il corso